Siamo qui all'Eurovision con un attivista di Extinction Rebellion. Perché siete qua e se vi siete incatenati con qualcosa di molto difficilmente tagliabile alle grate dell'Eurovision? Siamo qui oggi, la terza giornata dell'Eurovision, per rilanciare una campagna, Music Declares Emergency, nata nel 2019 nel Regno Unito, che chiede alle artisti e gli artisti di usare la visibilità e la voce, e la bellissima voce, la potentissima voce che loro hanno per dare visibilità alla crisi climatica ed ecologica che sta impattando tutte e tutti noi. Per questo faremo come Extinction Rebellion, portiamo avanti azioni dirette non violente, tra cui quella di oggi, per provare a fare in modo che questo tema abbia sempre la massima visibilità possibile. Oggi ci siamo travestiti da Mane Skin perché se l'Eurovision è a Torino quest'anno, è grazie alla canzone Zitti e Buoni dei Mane Skin e noi vogliamo lanciare il messaggio che non staremo zitti e buoni verso l'estinzione, non possiamo stare in ermi. Grazie.